Da un giorno ad un altro non riuscire a respirare è molto complicato e ti cambia la vita, perché una ragazza giovane ovviamente ha sempre respirato da sola, senza patologie. Da un giorno ad un altro non respirare più è stato molto difficile per me e penso che sarà stato difficile per tutte le persone che hanno provato questa cosa. Irene ha 18 anni, è di terra nuova Bracciolini e come ha detto lei stessa ha conosciuto da vicino il coronavirus, adesso così ha deciso di rendere pubblico il suo calvaglio con un lungo post su Facebook per sensibilizzare i ragazzi della sua età e far comprendere a tutti che anche la vita di una giovane studentessa in salute volontaria della misericordia può essere stravolta dal Covid-19. I giovani non ci ridono al Covid e pensano che stare male non gli possa capitare, invece dalla mia esperienza che sono stata ricoverata sì. Tutto è iniziato il 27 ottobre scorso con un isolamento a causa della positività di una compagna di classe. La giovane ha deciso di chiudersi nella sua stanza per il timore di infettare l'anziana nonna che vive con lei. Dopo qualche giorno però i primi sintomi, febbre e mal di testa, poi il tampone positivo. La febbre si è alzata fino ad arrivare a 39 e mezzo di febbre per 5 giorni, poi quando la febbre è scomparsa mi è venuta una mancanza respiratoria e mi hanno trovato una polmonite importante e quindi i medici dell'USCA hanno deciso di farmi ricoverare. Che giorni sono stati quindi all'interno dell'ospedale? Per me è drammatici perché anche se a casa ero sola, però almeno la mia famiglia era all'interno della stessa casa, invece lì ero veramente da sola. Infatti le sentivo forse con qualche piccolo messaggino perché stavo davvero male, perché ho ottenuto il casco dell'ossigeno per 5 giorni e sono stati i giorni più difficili di tutta la mia vita. Aveva un fischio continuo nelle mie orecchie, era come avere l'ossigeno sparato 24 ore su 24 e poi i valori mi sono rialzati quando mi hanno messo in una posizione soffina e quindi i polmoni hanno iniziato a rifunzionare correttamente. Poi hai detto che ho avuto tanta paura in quei giorni, anche paura di morire. Sì, perché sentivo dalla mia stanza, anche se mi hanno tenuto in disparte, che ci sono tante persone che hanno lasciato la vita. Io pensavo veramente di non farcela, perché veramente sono stata da stare male, a stare bene e passavo veramente un secondo, perché io giorno prima stavo bene. Le cure poi fortunatamente hanno iniziato a fare effetto e dopo 10 giorni di ricovero finalmente sono arrivate le dimissioni. Irene oggi però, oltre a ringraziare medici, infermieri e personale sanitario che l'hanno curata ed assistita, vuole anche lanciare un appello a tutti i suoi coetanei. Mi raccomando di rispettare le regole, ve lo dico io che ci sono passata. Il nemico può arrivare anche in un momento inaspettato, anche se tipo per esempio si tocchi un occhio può capitare che il virus entra dentro di te. Quindi mi raccomando veramente rispettate le regole.